è da tanto tempo che aspettavamo sinceramente questo momento perché comunque sono stati sei mesi difficili per tutti e star fuori dai campi di pallavolo sicuramente per chi vive di pallavolo come noi non è facile però siamo felici perché abbiamo ricominciato quindi siamo molto carichi oggi è stata una giornata un po' conoscitiva un po' di ambientamento di capire un po' il mister e il preparatore cosa vogliono da noi quindi soddisfatto ecco ma ambizione sicuramente di fare bene questo è poco ma sicuro Siena è una piazza molto importante per la pallavolo italiana io sono qui sicuramente molto motivato per cercare di portare il più in alto possibile cosa mi ha convinto la maglia la storia la città i tifosi io l'anno scorso ho avuto il piacere di giocarci contro è l'onore soprattutto perché comunque Siena è una società molto importante nella pallavolo italiana e si è visto che comunque ha un supporto dai propri tifosi molto molto importante quest'anno adesso vedremo insomma come evolverà la cosa per quanto riguarda il palazzetti, i tifosi e quant'altro io mi auguro che i nostri tifosi ci possano supportare qui chiaramente al palazzetto però chiaramente insomma adesso vedremo un attimino come sarà la cosa e come evolverà la cosa Sì è stata una Serie A2 molto molto movimentata anche insomma ci sono nuove realtà Cunio, Taranto insomma c'è stato veramente tanto movimento come hai detto te ci sono tante squadre molto attrezzate e noi sicuramente siamo una di quelle campionato di A2 sarà un campionato molto difficile, molto lungo, faticoso come sempre d'altronde e quindi insomma adesso bisogna mettere le basi e già da oggi abbiamo cominciato a mettere le basi per un futuro insomma speriamo molto molto roseo per noi È un gruppo sicuramente unito che non molla mai, che non molla fino all'ultima palla ecco questa dovrà essere una cosa che ci dovrà contraddistinguere per tutto l'arco della stagione quindi la voglia di vincere e di non mollare mai